L'avvio di un'impresa per la realizzazione di prodotti e servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico richiede impegno, sacrificio ed una certa propensione al rischio. Ma anche progettualità e organizzazione, Università degli Studi del Molise e Regione vanno incontro alle esigenze di quei giovani laureati che vogliono mettere in pratica un'idea. Da qui nasce il nuovo corso di formazione post laurea Startup Innovative Brevetti, un'idea che diventa realtà. Il corso si propone di analizzare con un approccio teorico pratico e multidisciplinare il quadro normativo di riferimento e l'organizzazione aziendale della startup innovativa con l'obiettivo di rendere fruibili quelle competenze necessarie a delineare l'organizzazione societaria, aziendale, finanziaria, fiscale e del lavoro della startup e di delineare la strategia di pianificazione e di benefici offerti dalla disciplina giuridica. L'Università vuole svolgere a pieno il proprio compito formativo anche su un tema come quello delle startup che è un tema fondamentale per lo sviluppo economico anche di questo territorio per l'occupazione dei giovani. Quindi occorre formare i giovani affinché possano trasformare le proprie idee in impresa e quindi in occupazione e in valore economico. L'impegno nostro dei colleghi che si sono interessati all'allestimento e all'organizzazione di questo corso è in tale direzione. Il corso è stato presentato a Campobasso nella sala consiglio del Dipartimento Giuridico alla presenza del Rettore Gian Maria Palmieri e del Presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura che ritiene il corso un'opportunità per accompagnare il talento e la capacità innovativa di giovani laureati nella realizzazione di un'idea che sa guardare ai tempi e al futuro. Tutto questo, ha spiegato Frattura, significa far crescere assieme alla nostra Università il Molise. Grazie.